Rieccoci, ben ritrovati dopo la pausa estiva e a dir la verità anche un settembre, sempre mese un po' complicato per la ripresa delle attività scolastiche e quest'anno anche per alcuni impegni letterari che mi hanno coinvolto. Ma siamo pronti a riprendere un po' il nostro discorso, le nostre divagazioni o anche i nostri affondi intorno alle questioni che riguardano il mondo della letteratura. Ripartiamo con una annosa e globale questione, vale a dire il canone. È possibile e ha senso preoccuparsi di un canone contemporaneo? Ebbene direi che ovviamente per arrivare alla costruzione di un canone, peraltro fermo restando che il canone è sempre qualcosa di aperto e di continua in discussione, anche il canone eventualmente di secoli passati, basti guardare la alterna fortuna letteraria che hanno avuto diversi scrittori nel corso dei secoli. Fermo restando quindi che il canone è sempre una questione aperta, tanto più verrebbe da chiedersi che senso ha parlare di un canone contemporaneo. Come abbiamo già detto, prima di formarsi questo canone avrà bisogno sicuramente di tempo e in particolare diremmo dovrà passare quantomeno tre generazioni probabilmente, perché nel contemporaneo, nell'oggi dì, saremmo pronti probabilmente a attribuire grande importanza e valore ad alcuni autori che magari semplicemente occupano la scena letteraria e ci impressionano, ci danno un'impressione favorevole rispetto alle loro opere. Sarà poi la generazione successiva avvaliare magari con un po' più di distacco i valori effettivi messi in campo dalle opere ed è ancora una generazione prossima, tutto sommato, quindi ancora direttamente influenzabile se vogliamo, i vari figli, i nipotini, tutto sommato di quelli che hanno goduto appunto di un certo prestigio, di una certa fama e magari anche di una certa capacità di gestire il loro il loro valore letterario, la loro influenza rispetto alle future generazioni al presente e quindi anche al futuro. Quindi bisogna aspettare ancora una terza generazione, ancora più staccata e poi evidentemente tutte le altre, perché i valori possano essere effettivamente metabolizzati. Detto questo, quindi allora che senso ha parlare del contemporaneo e proporsi il problema del canone. Io credo che sia comunque necessario, perché già il presente deve elaborare un'immagine di sé, sapendo che può essere anche, sarà falsificata poi dopo da chi verrà in seguito e chi valuterà con maggiore distacco. Ma è necessario proprio e soprattutto oggi che sembriamo paralizzati in questa possibilità dalla, l'abbiamo detto più volte, quantità di scrittori di proposte, di ottimi libri che occupano lo scenario. È come se ci trovassimo di fronte ad una grande foresta, potremmo dire che meraviglia, quanti scrittori oggi occupano il panorama letterario, quanti scrittori si possono scoprire, tutti magari anche validi, importanti, forse anche di qualità eccezionali. Ma se tutti sono eccezionali, se l'intera foresta cresce, evidentemente non è possibile più raccontarla, trarne una narrazione, vedere insomma chi spicca, trovare delle linee, dei paesaggi entro i quali potersi orientare. Quindi, anche se la domanda è un po' utopica, è bello che i contemporanei si chiedano, ma chi sono gli autori più importanti oggi? Se vogliamo purificare questa domanda e toglierci la parolona, il canone, è bello che esista in qualche modo una comunità di lettori, di scrittori, che in qualche modo siano sempre pronti a mettere in circuito valori e quindi suggerirsi degli autori. Quali sono gli autori importanti? Beh, guarda, non lo so, ma secondo le mie conoscenze ci sono questi libri, questi autori, questo scrittore qua mi è piaciuto tantissimo, questo libro magari non del tutto conosciuto o addirittura un libro ai più sconosciuto è secondo me un libro eccezionale. Questa mi sembra davvero un'opera di grande merito culturale, quella di promuovere non soltanto se stessi la propria opera, ma promuovere il circostante, tutti gli autori, tutte le opere che effettivamente sembrano meritare. E qui, se vi ricordate, mi riallaccio a quella che avevo annunciato essere, nell'ultima puntata, prima della pausa estiva, essere una novità. Mi sono occupato anch'io direttamente di segnalare nel panorama della narrativa contemporanea alcuni nomi. Ed è un'operazione che continuo a fare attraverso i social, attraverso il mio sito, attraverso varie, tutti gli spazi che ho a disposizione e quando mi capita, e ho tempo e ho le energie, e quando mi capita di imbattermi in qualche autore che merita, mi è naturale in qualche modo cercare di sottolinearlo, di promuoverlo, di indicarlo anche agli altri autori. E recentemente un editore, un piccolo editore, ma molto intraprendente di Mantua, Mantua Verona, mi ha attribuito la responsabilità di creare un'antologia di narratori. E' questa che vedete, si intitola Splendere ai margini. Il sottotitolo richiama un'etichetta utile, anche se per certi aspetti magari un po' antipatica, quella di narrazioni emergenti. Quindi ho cercato di evidenziare, di sottolineare, di proporre 13 autori nel mondo contemporaneo, 13 narratori, che mi sembrano su una linea ancora di emergenza, di possibilità di maggiori ancora riscontri. Alcuni di questi scrittori sono già ampiamente conosciuti, noti ai più, attenzionati, come si dice con un brutto termine, dalla critica e anche editorialmente ben collocati. Altri invece, mi piace questa commistione, altri invece sono ancora un pochino meno riconosciuti, ma io sono davvero convinto, ovviamente, del valore di questi autori. Ovviamente vi lascio tutti i riferimenti per poter recuperare, se siete interessati, questo libro, questa antologia. Il significato di questo libro è appunto questo, cercare di additare nel presente alcuni nomi, per proporli, per avere l'opportunità di conoscerli. Quando mi capita in queste presentazioni, in questi mesi di questo libro, di promuoverlo, di rendere un'idea del significato che vuole avere, lo paragono a un sasso, a un mazzo di fiori e a una guida. Un sasso perché in qualche modo è davvero un gesto, un lancio nello stagno del contemporaneo, per smuovere un po' le acque, per attirare l'attenzione su alcuni autori, ma anche perché possa creare cerchi concentrici e quindi promuovere una discussione, un dibattito su quali altri autori meritevoli si possono ritrovare. Io stesso spero di potermi allargare, attraverso, partendo da questo libro, su altri autori di diversa estrazione, di diversa appartenenza generazionale, per esempio. Quindi anche, perché no, dei maestri più o meno in ombra o più o meno riconosciuti, e altri autori che in qualche modo si possono e si dovrebbero scoprire. Un sasso quindi per cercare di smuovere il panorama contemporaneo. Però anche un mazzo di fiori, un mazzo di fiori perché chi ha voglia di leggersi qualche bel racconto, diversi, con colori, profumi e forme differenti, potrà attraverso questo libro farsi un'idea per poi decidere su quei 13 autori di approfondirne uno, due, tre, quelli che vorrà, o comunque cominciare a segnalarli, averli un po' sott'occhio per vedere cosa succederà editorialmente nei prossimi anni. Magari qualcuno di questi avrà modo di uscire con editori più importanti, o comunque vi capiterà di imbattervi nuovamente in un titolo di qualcuno di questi autori e insomma uno più uno comincia a fare due, potrebbe essere un utile ore riprova, un indizio, un invito davvero a conoscerlo, a leggerlo. E in effetti, terza immagine per presentare questo mio libro è una guida. È una guida a un primo tentativo in questa grande foresta della narrativa contemporanea di tracciare qualche percorso e qualcuno potrebbe insomma accodarsi per dire, bene, l'esperienza di qualcun altro che ha letto ha fatto sì che faccia emergere questi nomi, questi libri che si possono accogliere, adottare tra gli scrittori contemporanei. Magari andatevi a rivedere la puntata che avevamo fatto sui consigli che davamo rispetto alla lettura degli autori contemporanei. E qui ecco alcune mie proposte. Si tratta di autori molto differenti tra di loro, ripeto, per età, per stili, per modi di lavorare, per percorsi intellettuali, per collocazione editoriale e così via. E ne parleremo magari in qualche altra circostanza. La diversità è ovviamente una ricchezza, non è un'operazione, quindi questa antologia, un'operazione di gruppo o di poetica, bisogna scrivere in un determinato modo, c'è un'ideologia letteraria che viene in qualche modo promossa. prima, e ovviamente si parte dai gusti del sottoscritto, ma l'idea è quella di riconoscere nella varietà quelle che sono opzioni di valore. Cosa vuol dire riconoscere anche in chi scrive in una modalità o ha un'opzione, un'idea letteraria un po' diversa dalla mia, riconoscere il valore? Vuol dire effettivamente riscontrare nel testo la capacità di imporsi come credibile. È uno stile, è una visione del mondo che magari mi può anche sollecitare delle critiche, ma che mi sembra in qualche modo autorevole, che abbia delle sue ragioni e lo stile mi pare sufficientemente consapevole, convincente e quindi in grado di sollecitare le mie attenzioni. Ripartiamo allora da qui, nelle nostre considerazioni. Il circostante, il mondo letterario è vasto e intricato, ma proprio per questo dobbiamo accettare la nostra sfida e da buoni lettori esplorare, leggiucchiare, magari anche attraverso qualche antologia farci un'idea di qualche autore e quando ci imbattiamo in qualche bella sorpresa, un autore che ci piace, un libro particolarmente significativo, promuoverlo, difenderlo. E ritorniamo in questo senso all'origine nel nostro discorso. Come si fa oggi a dare credito a un'opera? Come si fa a emergere come scrittori? Come si fa nella confusione come lettori trovare le opere che meritano? È difficilissimo, non abbiamo più critici così autorevoli o narrazioni così forti che in qualche modo si impongono rispetto alla narrativa contemporanea o alla letteratura, nel senso generale, contemporaneo. E quindi noi cosa possiamo fare? Dobbiamo, come cittadini, fare agorà, fare piazza, discutere, proporre. In questo rumore di fondo forse piano piano cominceranno a emergere dei temi, degli autori. Se non si fa questo, se non si partecipa in senso così ampio ad una rete condivisa, non si può fare altro che cercare una sopravvivenza piuttosto grigia e solipsistica all'interno al massimo di una bolla compiacente, ecco l'amichettismo di cui abbiamo già parlato, e cercare, sforzarsi in qualche modo piano piano di fare carriera, di migliorare i propri posizionamenti, di gestire i riscontri che in qualche modo si sono ottenuti e quindi di agganciarsi a tutti quei meccanismi, a quelle istituzioni che ancora possono esistere oggi, quindi quei pochi critici, ma soprattutto le agenzie letterarie, i corsi di scrittura, per avere i nostri agganci e per gestirci nel presente. Ahimè, è un'immagine piuttosto trita e affaristica di quella che dovrebbe invece rimanere letteratura e quindi l'invito che rilanciamo nel ripartire con il nostro percorso è questo, siate lettori liberi, siate lettori curiosi e appena trovate qualcosa di valido, beh, innamoratevi senza paura e appena rinnamorate, cercate evidentemente di cantare l'elogio dell'opera che vi ha in qualche modo impressionato.